Sofidel, leader mondiale nella carta per uso igienico e domestico, annuncia la prossima inaugurazione di un nuovo stabilimento negli Stati Uniti e lo fa sulla scorta dei buoni risultati del bilancio integrato 2019 presentato in queste ore. Lo scorso anno le vendite nette del gruppo con sede a Porcari hanno toccato quota 1919 milioni di euro con un incremento percentuale del 12,5% rispetto al 2018. Anche il margine operativo lordo è aumentato attestandosi a 258 milioni, indeciso miglioramento rispetto all'anno precedente quando era stato pari a 107 milioni. In crescita anche il numero dei dipendenti che nel 2019 erano 6.453, 126 in più rispetto al 2018. L'amministratore delegato Luigi Lazareschi definisce buoni i risultati raggiunti ed annuncia per i prossimi mesi l'ina inaugurazione ufficiale del grande stabilimento integrato ad Ainola in Oklahoma che contribuirà all'aumento della capacità produttiva necessario per soddisfare la domanda in crescita del mercato americano. Un investimento che si aggiunge a quello effettuato nello stabilimento di Circleville in Ohio entrato in funzione nella seconda metà del 2018 per un impegno complessivo nei due impianti di circa un miliardo di dollari.